Questo cuoca, non ho stupendo un aspetto Se si basa in grado, quando possiamo cambiarlo Se si basa la forma, si chiama... Ehi... Allora, almeno vengo costata perché si viene con cappa No, non sembra simili, piava cosa è segura No, ma che io compro la cosa Ehi... che tanto non c'è un cianciò Sì, sono un po' piccola. Oh, no! 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 Cuore, cuore! Sì, che c'è? No! 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 Un patito! Cosa di patito? Mo парa di patito! Mo how Non sia un po inā Ma Ha Chi Chi Bomba Cosa yang Perakè nett sha l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto a che l'ho fatto ma appena non sono non lo so non lo so non ci sono che che non è perché non è e qua questo messa con la pomme questo il borde questo assetto è quello che fa a un'ordine da un'ordine che usa il forco a un'ordine a dedicato da comprare adesso non ho però adesso andiamo ora a presto mi immagino non c'è ma non ci sono ah ah a presto e che che e questo lo spiega, lo so e questo e questo è tipo la microglia la armigia e questo la l'orange non è non è ma non è la microglia e non è il nostro canale ahhhh ci sono i ragazzi qui ci sono le nostre ci sono le nostre e ci sono i nostri a tutti e ci ci sono i nostri i nostri e ci sono i nostri in un altro e ci sono i nostri e ci sono i nostri si perfetto, è molto bene non voglio comare che lì mi compri questa no, non è giusto che è l'esito che è l'esito che è l'esito che è l'esito che è il caso che è l'esito che è l'esito aia proprio in questo modo si questo è l'esito a andare aassla iscriviti al canone Pagli qui? Olla Olla? No, è così Cosa 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 con un croncidino lo pescaro mette ardo toccato ahhh ok ok cambiamo le vite dai lea questa è l'ultima che si è questo? un hard hard dai un hard hard io voglia di riparare un miglioro un miglioro un miglioro è il miglioro un miglioro in miglioro è il miglioro questa è il miglioro ora è il miglioro che E' un po' di fonsi, no? Allora, però mi scoglieva Perché mi scomita? No, non sapeva che aveva già sembrato la farina Allora, la farina puse sopra la mia Dai, non mi chiede mai star, non mi la abbosa No, non mi chiede mai Allora, la farina puse no Ay, short Bueno, vais a... No le dije, no le dije en el principio Bueno, esto lo dejo acá porque ya no lo dije, juego, la verdad Mira, bueno, no tengo los pies Bueno, espero... Tres... Que no, pero eso también ¡Ah, encantado este video! Bueno, todavía no tengo nada de contar Pero... Chao, chao Bye, y nos va a salir esta noche, esta día, un montón